io ne ho visto cose che voi umani non potreste immaginarvi navi di crociera affondare l'isola del giglio ho visto la juventus in serie b e l'inter vincere il triplete e tutti quei momenti andranno perduti nel tempo come lacrime di pioggia è decisamente ora di cazzeggio ma insomma clefi basta con queste sciocchezze alla tua età fai un pochino il serio basta pianta lì clefi pianta lì pianta lì Sous-titrage ST' 501 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti